Rete a raccolta, ossia l'insieme delle associazioni di volontariato che spesso supporta l'azione di Chima Ambiente AMIU proprio come apporto dei volontari gratuito fatto con il cuore e nella meravigliosa location di via Garibaldi nella città vecchia proprio per ripulire i fondali marini. Una azione certamente significativa, una testimonianza di amore per la città e ecco una delle volontarie di Siamo Taranto, una delle associazioni di rete a raccolta. Il suo nome? Io mi chiamo Rita. Allora signora Rita, lei ha deciso questa mattina di staccarsi magari da una bella giornata al mare, magari si è allontanata un po' dalla famiglia, dalle faccende domestiche e ha deciso di spendersi per Taranto. Certamente, questo lavoro lo facciamo ogni domenica e anche durante la settimana là dove abbiamo il tempo. È un piacere immenso quello che noi facciamo perché effettivamente vediamo il riscontro, vediamo innanzitutto i ringraziamenti della gente che comunque ci incontra per strada, però non è uno spreco, voglio dire anzi è una cosa utilissima, ci fa stare bene dentro, ci riempiamo d'amore, ci riempiamo di tante cose che magari prima non avevamo avuto la possibilità di conoscere. Pertanto sono giornate vissute, non giornate lavorative, non sprecate. Ecco.